Ciao amico visionario che come me ami il cinema e le serie tv, stai ascoltando un nuovo episodio delle Vision News. Allora, la notizia è ufficiale, la terza stagione di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia, lo ha svelato Variety citando diverse fonti vicine alla produzione, anche se ad onor del vero HBO per il momento non ha ancora commentato questa indiscrezione. La seguitissima serie creata da Mike White ha vinto ben 10 Emmy Awards fino ad ora e se non l'hai ancora vista puoi recuperarla su Sky e in streaming su Now. Per darti giusto un'infarinatura o un'indicazione sull'argomento al centro di The White Lotus devi sapere che si tratta di una serie antologica, quindi ogni ciclo di episodi è una storia a sé e che ogni stagione racconta le vicende di un gruppo di persone in vacanza in un hotel di lusso. La prima serie di puntate era stata girata a Maui, alia Hawaii, mentre la seconda è stata ambientata qui da noi in Sicilia. La scelta dell'Asia in realtà era già stata ventilata dallo showrunner alla fine della seconda stagione. La certezza ora però deriva dal fatto che Mike White e alcune persone della produzione sono andate in Thailandia per scegliere la location. Quindi dal momento che nelle prime due stagioni era stato scelto un hotel della catena Four Seasons, le località individuate potrebbero essere Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui o il Triangolo d'Oro, ma in ogni caso ancora nessuna indiscrezione è trappelata sul cast o sulla trama. Non ci resta che aspettare ragazzi. Se invece non vuoi aspettare per rimanere aggiornato su questa ed altre novità dal mondo del cinema e delle serie tv seguimi sul sito visionaire.fm oppure puoi seguirmi sul canale youtube, su instagram, facebook, tiktok e twitter. Alla prossima puntata e buon cinema e buone serie tv a tutti!